Il minimo depressionario attualmente sul tirreno centrale prosegue nel suo naturale incedere verso Levante, favorendo un lento miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione. Lunedì 25 novembre in Toscana, miglioramento già dalla mattina con precipitazioni in cessazione e graduali schiarite fino a cielo poco o parzialmente nuvoloso, con zone di sereno nel pomeriggio. Venti traddeboli e moderati dal nord-est, mari mossi con tendenza ad attenuazione del moto ondoso, temperature minime stazionarie o in lieve aumento massime in deciso rialzo con valori prossimi a 20 gradi. Sulla nostra provincia da poco nuvoloso a sereno, a Lucca temperatura minima 10, massima 20, a Castelnuovo minima 9, massima 20, a Viareggio minima 13, massima 22 gradi.